BOOM e ci riesco Sto prendendo della cobblestone Lo so, quella che io dirci l'ho morto Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Genen E oggi siamo tornati sulla CTM con Ferrel Allora, ho avuto l'ospedita idea di ampliare quest'isola Per aumentare appunto lo spawling dei mob E quindi così abbiamo più cibo, sei un coglione Ragazzi, le nostre supposizioni erano corrette perché appunto qui dentro Ferrel aveva detto, ma vuoi vedere che qui dentro c'è il monumento? E infatti, quindi vediamo sto monumento Allora, ci serve un blocco d'ossa Packet dice, quindi dobbiamo fare il silk touch Lana verde Allora, la lana verde forse è la prima cosa che possiamo fare Io sto andando nella seconda support island Island of support Ok, ti seguo a ruota Ragazzi, ora andremo al coso la skeleton Sì, ho un'idea È molto difficile, però Non è difficile, guarda come si fa Si rascia E si illumina, si illumina, si illumina, si illumina Ok Anche a questo chat Scheleton boss Tua mamma, scheleton No dai, però A me che puttana Te ne aspetta Mi sono ricordato una cosa Che qui dentro c'era appunto lo scudo Eh sì E ora come lo mettiamo? Come faccio ad uscire io? Sto andando in giro per la stanza Aspetta, tu distrailo? Picchialo, pestalo Eh chatò Eh, sto morendo Eh, leva il pvp Ce l'hai da cintino? No, l'ho puttata Io ce l'ho Eh 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 Non ha capito il cazzo dell'occhio Eh, ahia Ah, vieni che puttana Dino a fuoco Oh, quanta cazzo di vita ha sto bastardo Coglione Pagli un po' la giardo Oh, è morto Che cazzo Ha dato la sua armatura bellissima Abbiamo uno spawner di scheda In questo modo trasformiamo tutto in uno spawner Lo spawner di rani lo levo Eh sì Danno un po' fastidio Ok Abbiamo Eh Come si dice Bonificato questo Dungeon Che non è un dungeon Però vabbè Oro Ferro C'è roba sotto questi Oh Diamanti 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 Bella Mi è venuta un'idea per la farm Dobbiamo levare le liane Bisogna fare una base sotto Sì Io intanto vado nella Terza Isola di supporto Così abbiamo più terreno Ah Sì Sword Island Sì Eh, non sa che noi siamo tenaci Oh da No Oh Mi sono preso tutto Via Che l'altro Partava a spaccare la cesta Deficiente Mi sono ritardato Quanti diamanti c'erano Io La voglio provare ora Fammi vedere Fammi vedere No che cazzo Eh, hai perso Ciao Il Logical Sword Sharpness Buono 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 No Io faccio un'altra E di quelle cagate con la lava E faccio il mega pillar Di cobblestone E così abbiamo una base Io mi butto Abbiamo una base su cui lavorare Ok, ce l'ho fatta Ho creato il pillar Eeeh Il scheletro di merda Mi hanno sparato Vabbè ragazzi Ho creato la base Per la farm Adesso io La creiamo off camera Praticamente la mia idea è di Tramite questo pillar Cazzo Cazzo Tipami Tipami Eeeh Tramite questo pillar Voglio creare un appoggio Eeeh Con questo appoggio Metto un secchio d'acqua Mi butto Anzi Lo preparo subito Mi butto Così crea una base d'appoggio E' semplicemente su quella base Eeeh Che sarà molto Più In fondo Su quella base Cadranno Gli scheletri Che poi Moriranno Eppure qui ci sono Scheletri Veloce che io rascio Con le torce Ah no pigmen Sono pigmen Sei un ritardato Sei un ritardato Sei un ritardato Si Perché hai picchiato il pigmen Fermo Sono un po' morto eh No pigia pure me Perché io Non ti ho picchiato Non ti ho fatto niente Perché a me Una streghe C'è uno spawner di streghe Ma vai via Aia No no C'è pure lo scheletro Ma vai via No Ha picchiato il pigmen Ha picchiato il pigmen Aia Ma chi Ma chi No C'era con me Ce l'ha con me Ma fa il culo No Eh vabbè Te do la strega dietro Ce l'ho la strega dietro Eeeh vabbè Cazzo 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 Scappa Oh Vedete qui Cazzo 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 No No Oh Ciao tutti con me Ma Ma Vattene a fare il culo Eeeh qui la festa C'è una piccola festicciola nella nostra isola Aspetta eh Mi metto indietro Vi faccio venire qui che si deficienti Ed è Uno Due Tre Ok c'è l'ultimo Ti affronto sai Uh 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 Eh niente Ok Vai Facciamo festino Tre Seguitemi tutti Dai Facciamo tour Eeeh Guardate Questi sono Sono caduto C'hanno con Ma perché ce l'hanno con me Non mi chiamo Ferran Games Quindi ragazzi Per questo video è tutto Vi raccomando lasciate un bel mi piace Off camera faremo Lo spawner di Skeletri Vi raccomando Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale di Ferran Trovate il link in descrizione Seguitevi su Instagram Entrate nel server Discord Anche di questo trovate il link in descrizione E niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao